le regole che si ha fatto, che fa tessuti, che regole, cioè manca un drink? no, hanno la stessa età, io no, aggiungere, no, non volevo dire questo, la prossima volta riccia, perché? finiscono le fonti, e quindi ero tirchia con l'R2, non so se stanno insieme o no, perché va beh, sono usciti a Vagnana Pizza, però Pacchi è un ragazzo molto carino, di ottima famiglia, è un imprenditore, ma è giovane però, da un grandissimo specialista, sperma, come uno, narrativa uno, ricetta l'altro, no, che ricetta, non hai capelli ricci, non hai capelli ricci, non hai capelli ricci, è bellissimo, non stiano prendendo tanto piede, perché è la mentalità, che è tipicamente italiana, del faccio da solo, e come si esce bene, perché poi, per noi in fondo, il matrimonio è ancora, siamo tutti insieme, vogliamoci bene, in Gran Bretagna, per esempio, il matrimonio diventa una cosa molto più concertata, deve essere organizzata, e poi Barbara, tu seguirei i matrimonio, e loro li intrattengono per tre giorni, quindi... Quando tipo? Prima appena arrivo, mi voglio esprimere alla fine. Piccolissimo degli anni, forse, dopo guerra, e c'ha bisogno di un certo cinematografico, quindi io prendo tutti questi arredi da un studio di produzione, che fa soprattutto, perché è a Firenze, mi staccomo. Il senso di quello che è comunque la realtà anche di altre religioni, perché vada bene, noi dalla religione ebraica... L'assistente di lui, ti ringrazio di essere stata qui, anche a te Barbara.